Tutto pronto per il Giro Ciclistico di Avellino, arrivato alla 63esima edizione. A presentare l'evento è stato questa mattina Giovanni Cini, assieme all'assessore allo sport del Comune di Avellino, Donatella Buione. Sì, siamo arrivati ai festeggiamenti di Ferragosto. La macchina organizzativa è in funzione da diverso tempo. Ora si è ancora più messa in funzione, per quanto la gente mi diceva che non fa fallire anche il circuito, dal momento che c'è il calcio in subbuglio vedo un po' quello che fare. Ma sto trovando quest'anno tanti ostacoli, non avete idea. Quanti saranno i partecipanti? Ieri sera erano una novantina, tra allievi e un iores. Credo arriveremo a quota 100. Al di là dei problemi che ha riscontrato, qual è stato l'apporto e anche il rapporto con il Comune di Avellino? Con il Comune di Avellino ho avuto un rapporto subito, direi idilliaco, perché non hanno mai detto di no. Ci sono delle difficoltà oggettive, è il primo anno che si trovano a gestire delle cose forse più grosse che di loro. Quest'anno l'evento sarà anche sponsorizzato da Cosmopol, che ha voluto tenere in vita la manifestazione.